Ragazzi sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video di conferma per quanto riguarda il nostro incontro a Milano abbiamo confermato la data del 9 maggio anziché il 10, eravamo indecise, abbiamo confermato il 9 perchè più ragazzi erano più disponibili quindi l'incontro si farà a Milano il 9 maggio sto leggendo i problemi, perché mi dimentico le cose sarà alle 3 del pomeriggio, ci incontreremo in piazza Duomo, precisamente di fronte al McDonald's, avevamo pensato alla Sephora, però è già un po' più lontana quindi facciamo proprio di fronte al McDonald's alle 3 in piazza Duomo nel caso in cui piova verrà spostata in stazione centrale alle 3 di fronte alla MAC perchè se piove ragazzi è un po' una rottura di balle anche se vogliamo fare dei mini vlog e robe del genere, almeno in stazione centrale siamo sempre al coperto, c'è Sephora c'è MAC c'è... ci sono tante marche insomma, Bottega Verde c'è non tanti negozi insomma, ecco come si svolgerà il pomeriggio? diciamo che è un pomeriggio che vogliamo passare con voi sia io che Lisa e... si svolgerà niente a fare un po' di shopping magari andare a prendere un caffè insieme ci sono tantissimi negozi c'è la MAC c'è la Sephora c'è Kiko quanto ho capito c'è anche Tiger aiutami, Lush se poi ci sono dei negozi che voi volete vedere ditecelo che andiamo non c'è nessun problema e niente giù nell'info box vi lascio sia la mia mail però ho pensato che nel caso in cui abbiate dei problemi a trovarci lì al momento sarebbe il caso lasciarvi un numero di cellulare quindi sto per fare una cosa che non dovrei fare ma lo faccio vi lascio giù nell'info box il mio numero di cellulare così potete contattarmi via whatsapp o i chat come preferite e se avete bisogno potete contattarmi sul momento e riesco a rispondervi mi raccomando se non siete interessate a venire all'incontro non è che prendete il numero e cominciate a messaggiarmi non è che magari mi capita un uomo qua c'è un perdere e quindi niente questa sarà la giornata come si svolge spero che veniate in tante mi farebbe davvero piacere so che non saremo tantissime però fa niente perché ho beccato un fine settimana proprio di cacca quanto ho capito però va bene qua c'è già i vostri pensierini da darvi per il resto niente vi aspetto in tante sia io ed Elisa vi aspettiamo in tante giù nell'info box vi lascio anche il link al video di Elisa che l'ha fatto anche lei vi mando un grande bacio e al prossimo video e ci vediamo sabato ciao